sono felice sì sì signori miei sono felice malgrado i miei occhi mi tradiscano perché poi sembra che abbia pianto a dirotto ma ho una certezza ormai e non posso ridurmi a pianistei eloquenti da cavolo d'allergia per farla breve proprio per stringere il tutto all'allergia che mi perseguita da una vita è figlio mio mamma mia non lauro neanche al mio peggior nemico quindi neanche a me stesso per cui è dura è dura ma sono felice ragazzi sono felice è anche qui mi potreste ancora una volta dire ma se vede l'interno ancora preso nessun gioco sempre di cosa sepe sono felice sono felice sono felice perché qualcuno di voi scaricherà la puan football sì stasera qualcuno di voi la scarichiamo è vero o non è vero in descrizione c'è il link è gratuito rimaniamo aggiornati h24 sulle varie news di mercato la scarichiamo nostra cavolo di applicazione la scarichiamo la scarichiamo la scarichiamo colpo shiru tentativo per vidal se vogliamo e sogno ericsson perché sono felice perché comunque quando si lavora questi nomi è già qualcosa sì ma se poi ineschi alla fine l'inter non prende nessuno e se poi non prende nessuno poi poi ne riparliamo sicuramente e poi ne riparliamo e magari analizziamo la questione in modo più attento seguendo gli sviluppi però quando si trattano alcuni nomi significa già di per sé che che si vogliono fare le cose fatte bene o sbaglio no si parlava di marotta è arrivato poi è arrivato marotta avvolgiamo un po il nastro e avvolgiamo il nastro poi ci sono state tante dicerie su spalletti no che doveva andare via che arrivava è arrivato conte e poi da quella è arrivato quell'altro l'appetito vi è mangiando e l'inter sta lavorando davvero per accrescere la propria rosa ci riuscirà già adesso col calcio mercato di riparazione questo non lo sappiamo questo non lo sappiamo però però si sta lavorando affinché questo accade cosa che in passato ma neanche a sognarlo ma neanche a crederci poi più di tanto ecco perché sono felice ed ecco perché dobbiamo comunque rimanere calmi no perché già già il primo gennaio ancora doveva scattare il capodanno per i neri azzurri già o ma non è arrivato nessuno il 2 gennaio o ma non è arrivato 3 gennaio no ma non è arrivato calma 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 se dobbiamo prendere i giocatori per prenderli così a zonzo non prendiamo il proprio quindi va bene lavorare a questi nomi se qualcuno di questi nomi arriverà tanto meglio se no amen vediamo poi cosa cosa faremo più in là mamma mia mamma mia oi me e comunque per girù è veramente fatte per girù è veramente fatta perché c'è il sito del giocatore hai proprio il contratto già bello stipulato no che è valido affinché lui possa trasferirsi già adesso perché poi qualora invece sia tutto rimandato in estate si annullerebbe tutto ho capito praticamente che a noi ci serve adesso girù ecco ci serve subito olivier olivier che poi che bel nome olivier che mi ricorda d'acour eh mi ricorda d'acour olivier eh e quindi su girù è praticamente fatta andrebbe scadenza lo prenderesti a zero per cui credo che il celsi si dia anche una mossa ho già parlato oggi o ieri oggi se non sbaglio ha parlato lampard oggi sì dicendo che contento lui contenti tutti può partire se sono tutti d'accordo perché partirà in poche parole per cui eh veramente si tratta di accordarsi tra inter e celsi ballano eh ballano tre milioncini non facciamo la non facciamo la fine di gioco che per qualche milioncino ce lo facciamo scappare via perché poi veramente perché poi veramente conte figlio mio secondo me non lo so cosa fa conoscendo conte non lo so come reagirebbe se conta chiesto olivier diamogli olivier e diamoglielo subito non stiamo lì a guardare il milioncino su perché già per gecko e su gecko e per gecko io ce l'ho già qua ce l'ho già qua gecko 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 però qui si tratta anche di una storia diverso perché comunque o in un caso nell'altro penso che olivier arriverà arriverà quindi il colpo olivier diciamo che è assestato diciamo sì diciamolo diciamola pure è assestato si cerca un pochettino veramente di di cavillare sul milioncino in più milioncino in meno e stop per quanto riguarda vital sapete che avevo fatto un video tempo fa e pare che ci abbia un pochettino preso sarebbe stato meglio non prenderci però alla fine ho detto cose più che ovvie quello vital lì si lamentava perché non giocava adesso sta giocando ieri ha giocato nella nella supercoppa è un giocatore che adesso fa più che comodo alla al barcellona non credo che il bar sa prenda e se ne privi non lo penso non penso sia fattibile però pare che comunque l'inter ancora ci stia sul giocatore ci stia lavorando per cui ma mai dire mai dire mai e poi dolci si in fundo perché no c'è questo sogno ericsson e già si parla che i dirigenti vengano a milano che si parli quindi non è che sogno ericsson si lo dico lo diciamo un pochettino giusto per fare eco e per e per crederci sono cose fatti seri sono cose che stanno accadendo cioè questi che vengono e vogliono parlare l'inter il tottenham e l'inter che discutono davvero di un possibile trasferimento è una cosa concreta che poi ci siano tante altre squadre per ericsson lo sappiamo perché ericsson non è uno gioco non è un giocatore scherzo un giocatore di quelli che viene e ti stravolge la rosa in positivo stiamo parlando di un top player ericsson un top player e che sia ben chiaro perché poi l'inter sembra che stia trattando giocatori così ericsson è un giocatore è un giocatore della ma stiamo scherzando ericsson prendi ericsson sarebbe veramente io non lo so che fai io l'ho detto che faccio battezzare qualche bambina presa a casa ma presa a casa a marotta perché proprio per incoronare questa questo evento perché ericsson ragazzi miei non è un giocatore qualunque e e si vede si vede pare che addirittura l'inter metterebbe nella trattativa vecino mamma mia se succedono cose del genere io veramente vado proprio invisibilio ma non perché odi vecino ragazzi non travesiamo no perché comunque un professionista serio bravo disciplinato tutto quello che vuoi in campo fai di però non mi piace da un vista tecnico il giocatore posso dire che non mi piace vecino da un punto di vista tecnico si garraccia rua garraccia cua cion 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 ma non mi piace e se riuscissimo a prendere ericsson tanta di quella roba tanta di quella roba tanta di quella roba ma cazzi o mazzi fatto sta che l'inter e su questi giocatori qua ragazzi non sono piacere per cui per cui sono felice già di questo sono felice già di questo perché si sta lavorando si sta continuando no di mattoni mattoni ad accrescere il valore di questa squadra e non è poco scusate se scusate se poco è assolutamente quindi continuiamo così io per stasera vi abbandono vi abbraccio caramente ci vediamo domani e poi tra l'altro domani si entra finalmente nel vivo si torna alla serie a ce la godiamo per il momento un abbraccio a tutti un abbraccio da neschi va bene ti iscrivi ti sei scritto bravissimo che amicone che sei un grande abbraccio